Alla Camera dei Deputati, a Commissione Finanze e Bilancio Riunite, il Ministro Saccomanni ha spiegato il suo programma per quanto riguarda il Ministero dell'Economia. Qual è il giudizio della Lega Nord dopo le parole del Ministro? Il giudizio che abbiamo esposto ieri al Ministro, che ha portato una relazione programmatica rispetto al suo mandato da Ministro dell'Economia, una relazione fatta solo ed esclusivamente di titoli, sono un po' le solite cose, il recupero della lotta all'evasione, la questione della revisione fiscale, la delega fiscale, un po' le solite cose, però a livello di contenuti non abbiamo visto assolutamente niente. Abbiamo posto al Ministro alcune domande, principalmente quelle sull'attuazione del federalismo fiscale dei costi standard, che per noi è l'unico modo per ridurre la spesa pubblica e fare una vera e propria spending review, non abbiamo ricevuto risposte, per cui è stata un'audizione assolutamente non ricca, ma completamente anche vuota, fatta solo di titoli. E in Commissione Bilancio è iniziata la discussione sul DDL del fare del Governo Letta. Qual è il giudizio della Liga Nord? Al primo giudizio è quello che rispetto ai contenuti che ci sono in quel decreto la comunicazione del Governo Letta è stata molto giuriosa e molto amplificata. Il decreto non è granché, tenta di risolvere alcune piccole situazioni, alcune questioni burocratiche, alcune questioni di semplificazione. Noi faremo emendamenti, parecchi emendamenti, perché vorremmo invece riempirlo di contenuti. Ad oggi non è così, noi abbiamo già pronti alcuni emendamenti per affrontare la discussione che sarà, credo, ampia e completa nelle varie commissioni, principalmente in Commissione Bilancio, ma anche in Aula. Vediamo cosa ci porta la maggioranza e come affronteranno le questioni.